Capitano Calonico, venire a pallavolè porta bene, prima di tutto, chiariamo questo concetto. Seconda cosa, 4S, 3 muri, hai fatto di più di solito degli attacchi, cosa che non succede se non di rato. Serata straordinaria, dai! Infatti, come ti avevo detto, in trasmissione ogni partita ha la sua strada. Questa era la strada del break, quindi abbiamo concentrato tutto sulla battuta del muro, che era quella che un po' ci aveva messo in difficoltà in gara 2. Il pubblico ci ha aiutato, è stata una cornice splendida, adesso non abbiamo tantissimo tempo per recuperare, perché ovviamente i tempi sono strettissimi, sabato siamo già di partenza, ok, ci organizziamo. Una battuta per Link che apre, come si dice, tutte le porte, Link straordinario ancora una volta. Ho già due partite che lui alza il livello, nei play-off è così, non abbiamo tempo di ragionare, di calcolare, si va a gas aperto dall'inizio alla fine.